C'è un'intera famiglia che aveva avuto contatti con il caso emerso a Nocera Inferiore nei giorni scorsi e due persone rientrate da una vacanza in Grecia tra i sei nuovi casi positivi registrati nel comune di Nocera Inferiore dove al Palacoscioni continuano i test su tutta la popolazione considerata a rischio. I quattro componenti della famiglia sono moglie, figlio, suocera e suocero che avevano avuto contatti con il caso emerso nei giorni scorsi. Tra i nuovi positivi registrati oggi in provincia di Salerno ci sono anche tre cittadini di Mercato San Severino, due sono familiari, moglie e figlio di un contatto stretto del paziente di Mercato San Severino ricoverato già in ospedale per altre patologie. Da ieri alla conta si è aggiunto anche un nuovo caso a Battipaglia, si tratta di una persona rientrata da una vacanza dalla Spagna. Sul fronte buone notizie invece sono risultati tutti negativi, 101 tamponi effettuati da altre tante persone a Castel San Giorgio. Si tratta di gruppi che provenivano da vacanze all'estero, avevano preso parte a un evento presso la sala ricevimenti La Sorrisa di Sant'Antonio Abate o avevano partecipato al matrimonio al battesimo a cui aveva preso parte il fotografo risultato contagiato. Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo, ha detto il sindaco Paola Lanzara. La macchina amministrativa e sanitaria ha funzionato, ora andiamo avanti con serenità ma senza abbassare la guardia, tant'è che la prima cittadina di Castel San Giorgio ha obbligato ad utilizzare su tutto il territorio comunale H24 le mascherine. Analoga decisione, è stata adottata da ieri anche nel comune di Vietri Sul Mare dal sindaco Giovanni De Simone che ha emanato un'ordinanza che impone fino alla fine d'agosto l'obbligo di mascherina H24, ma per fortuna anche nel comune alle porte della costiera sono risultati tutti negativi i primi sei tamponi effettuati su cittadini residenti a Vietri Sul Mare che avevano avuto contatti con il fotografo del caso di Sant'Antonio Abate.